Ci sono alcuni momenti in questa nostra vita che il sole spegne l'interruttore e non ti dà più calore. Ci sono alcuni momenti che resteresti da solo o riempiresti di pugni il tuo amico migliore. Ci sono alcuni momenti che le stelle spariscono e con la luna oscurata ti danno un cielo avariato. Ci sono alcuni momenti che vorresti partire per un viaggio pagano o per un sogno inumano. Ci sono alcuni momenti che non ti fanno sperare, che non ti fanno dormire e non hai nessuna volontà di dire. Ci sono altre occasioni che vedi un raggio di sole rischiare una mano che si avvicina alla tua, piano piano. ci sono altre occasioni che ti fanno rialzare e lasciano un sorriso sulla faccia di un tuo vecchio amico. Ed è questo momento a farti guardare il vento, ad offerti il giornale da dare a chi non ha più valore. Grazie. 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 Grazie.